Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutti e 20 Tutti e 30 26, 26 Noi siamo ottimisti Innanzitutto Vi prego di avvicinarvi E entrare perché fa un pochino massa almeno Anche perché fa freddo poi Dai Facciamo un effetto buio a sinello Bene Posso iniziare? Iniziamo Grazie a tutti. 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 Salite se volete. Dovete solo aiutarvi. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.